Ma se l'Udinese si salva con Cannavaro, perché l'Udinese si deve salvare, Cannavaro è l'uomo giusto? Secondo me no. Perché? Avrei tenuto Cioffi. Avrebbe tenuto Cioffi? Sì, secondo me era un buon allenatore, una bella persona, poi era bello anche in tv, faceva una bella figura l'Udinese. Cannavaro non la convince perché? Poca esperienza? Poca esperienza, poca esperienza, perché mancano cinque partite alla fine del campionato, mi sembra assurdo. Però io parlo da tifoso, insomma. Io non sono particolarmente innamorato dell'attuale, però ritengo che comunque non era questo il momento per fare un cambio di allenatore, assolutamente no. A cinque partite alla fine si doveva finire così. Le chiedo un parere sull'esonero di Cioffi, giusto, non giusto, e soprattutto in realtà sull'arrivo di Cannavaro, può essere l'uomo per la salvezza dell'Udinese? Cannavaro deve dimostrare ancora in Italia di fare bene, allenava le Beneventoli se non sbaglio. È stato un grandissimo giocatore, un grandissimo campione del mondo, però secondo me ha avuto una piazza un attimino da ricostruire. Dopo Gotti, Cioffi, doveva vedere lui qualcosina in più. Però c'è la fiducia per provare? La forza ce l'ha, la forza ce l'ha, adesso stanno a vedere. Cosa pensa del nuovo allenatore? Del nuovo allenatore? Sì, ufficiale. Sicuramente è un bravo ragazzo, un bel giocatore, lasciatemi dire, con questa situazione, anche se è bravo, l'avrà dura, però meglio di quello che se ne è andato, penso sia sicuramente. Buona giornata. Può essere la figura giusta per salvare l'Udinese? Ma guarda, lo spero, lo spero molto. Ci ha promesso che avrebbe detto un'ultima seconda, un grande allenatore, dai. Era giusto cambiare? Eh? Era giusto cambiare? Sì, sì, prima doveva cambiare. Però non ha esperienza Cannavaro, diceva? Eh no, in Italia no, all'estero, in Cina, ma in Cina è un altro calcio, sicuramente. È un rischio? Potrebbe, ma ormai bisogna provare tutte. Cosa dice di questo cambio dell'Udinese? È arrivato Cannavaro, è andato via Cioffi, è giusto per salvarsi, va bene così? Beh, immagino di sì. D'altronde la società ha sempre preso delle decisioni comunque utili alla squadra e speriamo che anche questa volta faccia la cosa giusta. Quindi era giusto cambiare? Sì, secondo me sì. Boh, non sono molto esperto in materia, ma penso che il cambio sia buono, no? Sì. Merita il... Era giusto cambiare? Credo di sì, per quello che ho sentito credo di sì. Perfetto, grazie.